Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi Viola di oggi. Ne abbiamo già parlato di una possibile cessione della Fiorentina. Ne torniamo a parlare perché le voci in città sono sempre più insistenti, rimbalzano da una parte all'altra e la sensazione, anche parlando con qualche addetto ai lavori importanti, è che la Fiorentina o comunque i della Valle rispetto a un po' di tempo fa abbiano comunque deciso di ascoltare possibili offerte per la vendita della società. D'altronde dopo 14 anni senza troppe possibilità di fare il nuovo stadio, comunque sia è un progetto che potrebbe andare molto avanti nel tempo i della Valle forse potrebbero mollare, forse perché sicuramente per fare questo occorrerebbe un'offerta importante. Si dice che qualche sondaggio ci sia già stato, non da parte di gruppi italiani ma da parte di gruppi stranieri naturalmente. La richiesta della Valle è comunque importante perché si parla di circa 250 milioni di euro. È chiaro che il progetto stadio in questo senso potrebbe assumere un valore importantissimo. Un conto sarebbe vendere la Fiorentina senza stadio, un conto sarebbe vendere la Fiorentina con un progetto già avviato, con una possibilità finanziaria di incremento delle proprie risorse importanti come quella del nuovo stadio. Quindi in questo senso le prossime settimane, i prossimi mesi potrebbero essere decisivi. Però lo ripetiamo, la sensazione che abbiamo è che la Fiorentina possa essere davvero in vendita e che questa volta qualche acquirente possa esserci già alla finestra ad osservare quanto accade. A domani con i 101 secondi Viola. Un saluto da Marco Dell'Otto.